Il testo come vi piace è sicuramente un testo che mette un regista nella possibilità di poter leggere diverse chiavi di interpretazione, fondamentalmente perché è una storia estremamente complessa dove i personaggi hanno una vita che in qualche modo potrebbe sembrare quasi poter scorrere autonomamente rispetto alla trama stessa che viene raccontata. Shakespeare ci racconta una storia che in realtà sembrerebbe quasi essere divisa in due parti. Io mi sono fatto subito l'idea che in realtà potesse avere quasi una cifra politica questa scelta molto precisa di dividere la storia in due parti perché la prima parte racconta di una corte molto dura, una corte molto violenta, una corte dove il nuovo duca è uno che ha spodestato il vecchio duca, suo fratello per prenderne il potere, per poter godere di tutti i privilegi che erano riservati all'altro fratello. Questo fratello è stato cacciato via. In questa corte i nuovi divertimenti per la gente consistono in combattimenti dove ci si può rompere le ossa ed è una cosa che viene mostrata anche in palcoscenico. Altri elementi di questa corte, c'è un altro fratello che maltratta per invidia, per gelosia. Il fratello più giovane gli impedisce di studiare e lo tiene relegato quasi alla stregua dei servitori. È una corte molto dura, molto violenta e sembrerebbe quasi cozzare con l'intestazione dell'opera che racconta appunto di una commedia. Una commedia di suo deve poter far ridere, far sorridere molto. Di fatto inizia quasi come una tragedia, ma c'è immediatamente un rovesciamento della situazione nel momento in cui nella seconda parte del testo tutti i personaggi che vengono cacciati via da questa corte oppure che vanno via volontariamente approdano in questa terra meravigliosa che è la foresta di Arden, che gli storiografi e gli studiosi cercano necessariamente di collocare in una situazione spaziale molto precisa. C'è chi parla delle Arden in Francia o c'è chi parla di una località vicina al luogo di nascita di Shakespeare. Di fatto, come in tutti i testi di Shakespeare, è un luogo di pura immaginazione. È veramente l'Arcadia amara, come citava Jancotte, perché è veramente il luogo in cui la gente può ritrovare una reale possibilità di entrare in perfetta relazione con la natura. Questa ambivalenza, queste due qualità, queste due cifre molto diverse, la prima molto dura, la seconda molto poetica ed estremamente divertente. Forse, come vi piace, è una delle opere in cui Shakespeare ha inserito più personaggi interpretati da clown. Al di là del buffone, che in questo nostro spettacolo interpreta Eugenio Allegri, che è proprio il clown per eccellenza, ci sono una serie di altri personaggi interpretati da delle vere e proprie maschere comiche, come era nella tradizione del teatro elisabettiano. Quindi questa ambivalenza di una parte molto tragica, una parte molto comica, che mi sembrava una delle cose più interessanti da poter raccontare all'interno di uno spettacolo. Quindi fondamentalmente questa è stata la cosa che mi ha indirizzato su questo testo. Una particolarità di questo testo consiste nel fatto che un po' tutti quanti i personaggi hanno anche di filosofare durante le relazioni, i dialoghi con gli altri personaggi. Ed è una qualità, una caratteristica che paradossalmente assumono anche i buffoni. Uno dei grandi filosofi di questo testo è appunto il personaggio di Touchstone, il buffone. Ed è quello che per esempio suscita la più grande hilarità, la più grande armonia da parte di Jacques, il malinconico, che vede in questa figura veramente la possibilità di sovvertire il mondo con dei ragionamenti apparentemente strampalati, ma che invece hanno un senso estremamente profondo. Ma di fatto tutti quanti i personaggi, anche quelli più piccoli, hanno in particolar modo in questo testo quasi la necessità di voler far raffiorare attraverso le parole, attraverso il pensiero, qualcosa che va al di là delle semplici relazioni che i personaggi hanno nello svolgimento della trama stessa. Basti pensare per esempio a un discorso estremamente importante che Shakespeare sviluppa ampliandolo, mettendolo in relazione con tutti quanti i personaggi a proposito del tempo. Quando arriviamo nella foresta di Arden hai la sensazione che ciascuno percepisca il tempo in una maniera diversa. Aspettare una persona per più di un'ora può rappresentare quasi trascorrere una vita nel dolore più assoluto. C'è invece chi non si occupa affatto del tempo, perché sembrerebbe essere quasi il luogo dentro cui la gente ci si può incontrare per il semplice piacere della chiacchia, per il semplice piacere dell'incontro, dello scambio di pensieri. Ci si può dimenticare totalmente del tempo, quindi ci si può anche dimenticare delle persone che ci stanno ad aspettare. E paradossalmente sembra essere veramente la cifra su cui Shakespeare abbia spento un po' il pedale dell'acceleratore per poter mettere gli spettatori nella condizione di poter godere di dialoghi brillanti, a discapito forse di una trama complessa che lo spettatore riesce a ricostruire soltanto quando si arriva alla fine e magicamente con un coup de théâtre tutto quanto si risolve anche in una maniera semplice ma estremamente poetica. Credo di aver letto tutto ciò che è stato pubblicato, tutto o quasi tutto ciò che è stato pubblicato a proposito di come vi piace, tutti i saggi che sono in circolazione di semplice fruizione. Ci sono delle cose estremamente interessanti, delle cose che evidentemente ti aiutano a leggere delle parti del testo che non sono di immediata lettura. Di fatto c'è una cosa che mi colpisce sempre molto di Shakespeare e cioè che riesce a vincere sempre comunque su qualunque tipo di interpretazione. Perché il teatro di Shakespeare, è difficile spiegarlo, il teatro di Shakespeare è la cosa più vicina al mondo popolare che ci si possa immaginare. Il teatro di Shakespeare si presta a milioni di differenti letture, probabilmente anche tutte quante molto giuste, molto valide, però di fatto la cosa più importante che bisogna, secondo me, preservare nella restituzione di un testo ad un pubblico è proprio la forte relazione con la gente, la forte empatia che può scattare fra ciò che accade in palcoscenico e la gente che è invitata a fruire di quello spettacolo. Provate ad immaginare che cosa poteva essere uno spettacolo in un teatro elisabettiano, soltanto il semplice Globe Theater, era una pedana gettante sul pubblico con una distribuzione di spettatori che giravano quasi attorno al palcoscenico, con una qualità di relazione estremamente diretta, banalmente. La luce in palcoscenico era la stessa luce che avevano gli spettatori in platea. Alle quattro e mezzo del pomeriggio si poteva raccontare una notte, ma facendolo soltanto attraverso la parola. Quindi l'utilizzo della parola, l'utilizzo di una qualità di relazione estremamente semplice doveva consentire ad un pubblico anche non scolarizzato di poter intuire, capire perfettamente sia gli snodi drammaturgici che anche i discorsi più intellettuali o più poetici nascosti all'interno del testo. Io credo che, o perlomeno, la cosa che più di ogni altra mi ha interessato nel mettere in scena questo testo è cercare con uno sforzo importante, forse anche con un atto di presunzione, perché a volte il teatro deve passare anche per quello, cercare di restituire allo spettatore di oggi qualcosa che plausibilmente poteva essere stata la qualità di relazione che c'era fra quello spettacolo e gli spettatori a cui Shakespeare si rivolgeva. Dirò una cosa che probabilmente potrà sembrare contrastata o contrastante, però se devo pensare oggi in Italia, all'evento mediatico più elisabettiano, più scespiriano, a me viene in mente Crozza, che nei suoi spettacoli riesce sempre a trovare un'ironia estremamente importante, riesce a fare dei continui riferimenti alla realtà di tutti i giorni che il 90% degli spettatori che sta assistendo alla sua trasmissione conosce, tutto raccontato con estrema ilarità senza rinunciare la possibilità di poter raccontare anche delle cose forti, delle cose estremamente drammatiche. Ma se ci pensate è la stessa cosa che faceva Dario Fo 20 anni fa, 30 anni fa, sempre attraverso il teatro, sempre attraverso la rappresentazione, sempre attraverso l'utilizzo di maschere, raccontare il mondo che ci circonda. Per esempio in Shakespeare i riferimenti al suo mondo contemporaneo erano infiniti, cose che noi oggi non possiamo nemmeno lontanamente immaginare. C'è un personaggio, il personaggio di Imene, che già nel nome stesso del personaggio veramente ti dà l'impressione che fosse rappresentato da una vera e propria maschera, quasi da commedia dell'arte. Il personaggio di Imene è un personaggio che è stato introdotto successivamente, in una seconda rappresentazione, perché circolava in quel periodo un libretto che raccontava di questi Imene, un libretto che molta gente in quel periodo conosceva e ha creato in realtà un vero e proprio numero comico a proposito di questo personaggio, perché Imene è il dio del matrimonio, molto contrastato, perché non si sa chi è figlio, proprio perché è un mito, un mito che racconta una veramente complessa provenienza e di fatto essendo il dio del matrimonio racconta in un secondo momento che invece ha avuto amanti solo uomini, solo uomini, solo uomini. Allora ci sono tutta una serie di discorsi che poi uno può sviluppare. Era una cosa che Shakespeare ha introdotto soltanto per poter sfruttare quello che in quel momento era un argomento di discussione quotidiana. Noi per esempio lì abbiamo optato per un piccolo tradimento parlando di unioni civili, per esempio, quindi diventa questo nostro dio del matrimonio utilizzando soltanto, abbiamo aggiunto soltanto la parola tipo legame civile, noi qui stipuliamo soltanto dei legami civili d'amore e non dei matrimoni, perché non ci si può sposare fra uomini o fra donne. Diventa un momento estremamente esilarante perché è il modo di poter utilizzare una maschera shespiriana per poter raccontare, metterci dei riferimenti al nostro mondo contemporaneo. E in Shakespeare ce n'è una quantità infinita, la cosa drammatica è che purtroppo non possiamo coglierli, ma non soltanto noi mediterranei, perché comunque non dobbiamo mai dimenticare che ci sono una marea di riferimenti ad un mondo nord-europeo, quasi celtico, una serie di riferimenti che a ci mancano. Ma parlo, i 400 anni che ci sono di mezzo in qualche modo un'influenza abbastanza importante l'hanno avuta. Rosalind è veramente un personaggio estremamente affascinante perché è una donna di grande, di grande carattere, molto giovane, una donna di grande carattere che immediatamente riesce ad affrontare due tragedie molto grosse, la prima delle quali è quella di essere sradicata dal suo nucleo familiare. Non si fa riferimento ad una madre, si parla soltanto di un padre, quindi si presume che una madre non ce l'abbia. Suo padre, quello che la faceva vivere da duchessa, viene spodestato, viene mandato via, viene cacciato via e di lui non si sa più nulla. Lei perlomeno non sa che fine abbia fatto. La vediamo subito e immediatamente forte prendere in mano una situazione estremamente complessa nel momento in cui anche lei, soltanto perché è ritenuta più intelligente, più brava, più sveglia della figlia del nuovo duca usurpatore, anche lei viene messa al bando. Per esempio la cosa più coraggiosa che fa è quella di decidere di travestirsi da uomo per non farsi riconoscere nella foresta, per poter proteggere l'altra cugina che sembra decisamente più svampita e che decide di seguirla in questo viaggio verso l'ignoto. Ma la cosa meravigliosa è che ci sono una serie di saggi che raccontano del fatto che probabilmente Rosalinda può essere paragonata ai grandi personaggi scespiriani, può essere un correlativo femminile di quello che poi è stato per esempio Ambleto. c'è un piccolo particolare che noi non riusciamo a fruire nemmeno in questa nostra produzione e cioè nel teatro elisabetiano tutti i personaggi femminili erano anche quelli interpretati da degli uomini e c'è tutta una serie di doppi sensi, una serie di fraintendimenti dovuti al fatto che Rosalinda in realtà è interpretata da un uomo che si traveste da donna che poi finge di essere un uomo ed è veramente un gioco di ruoli abbastanza buffo, abbastanza divertente che mette lo spettatore nella condizione di fare a volte quasi dei salti mortali per poter stare dietro alla trama, dietro alla complessità. Però è anche vero che quella era una prassi abbastanza, totalmente diffusa per l'epoca, quindi lo spettatore dell'ora era molto più, era molto più allenato in questo. E' un personaggio che si pone nei confronti del mondo in una assoluta libertà. Si innamora perdutamente di uno sconosciuto e quando per esempio poi lo rincontra con un coupe de teatro totalmente cespiriano, lo rincontra in questa foresta di Arden, si imbarazza totalmente della condizione in cui si trova in quel momento, semplicemente perché vestita da uomo, si trova totalmente paralizzata davanti all'incapacità di relazionarsi con questo suo amato in quelle condizioni lì e decide di mettere in atto una commedia, a fingersi altro rispetto a quello che è. E paradossalmente le accade una cosa estremamente buffa, e cioè che la sua semplicità, il suo modo di fare, in realtà attrae immediatamente l'attenzione della persona amata, soltanto che in quel momento lei è vestita da uomo, quindi paradossalmente si ritrova a far innamorare due volte la stessa persona, una volta nelle sue vere sembianze femminili e un'altra volta nelle sembianze più prettamente maschili. ed è una cosa che evidentemente sbalestra sia lei che anche il povero Orlando che ci entra in relazione. Sembrerebbe quasi che, come vi piace, abbia al fondo un'esigenza da parte di Shakespeare di poter raccontare un legame estremamente forte con la natura stessa. E in questo testo c'è un personaggio che in modo particolare incarna in qualche modo questa idea di Shakespeare, ed è il personaggio di Jacques il Malinconico. Jacques che in realtà in un inglese arcaico si pronuncia Shax, che sembrerebbe quasi ricordare il nome di Shakespeare stesso. È un personaggio, è l'unico vero personaggio che entra in simbiosi con la natura. Sembrerebbe quasi essere un vegano antelitteram, no? O un fruttariano, un verduriano, perché veramente lui riesce ad entrare in relazione sia con gli animali della natura, ad entrare in empatia con il sentire di quegli animali. Ci sono due scene in cui lui parla dei poveri cervi che sono stati ammazzati per il semplice gusto di cacciare, per esempio, da parte dei boscaioli e non necessariamente per nutrirsi. Noi all'interno di questo spettacolo vediamo il personaggio di Jacques come l'unico in realtà in relazione con la natura stessa. E la natura, questa foresta di Arden, la raccontiamo con una pioggia di foglie sparse su tutto quanto il palcoscenico, è un unico albero. E a questo albero per tutto il tempo vi è attaccato, è usato dal nostro Jacques, che sembrerebbe veramente l'unico, essere veramente l'unico occuparsi e preoccuparsi. È una natura che viene vissuta da tutti quanti i personaggi in modo diverso. C'è chi in questa foresta ha un freddo cane, c'è chi invece patisce fortemente il caldo, c'è chi la trova confortevole, c'è chi invece ci vorrebbe scappare tre secondi dopo, c'è chi vorrebbe metterci radici. Ciò che è certo è che in questa foresta di Arden, in questa natura apparentemente incontaminata, chi ci entra perde il proprio sentire, il sentire che aveva fino a quel momento. Per esempio tutti i cattivi si redimono in qualche modo. È una corte abitata da personaggi che sono disposti a fare qualunque cosa per occupare una poltrona, per proteggerla, per difenderla e soprattutto per scalzare, per circondarsi di persone che possono in qualche modo garantire la non minaccia dello spodestamento della poltrona dal proprio sedere. Ed è quello che fa per esempio il duca usurpatore. Nel momento in cui si è insediato fa fuori anche Rosalinda, solo ed esclusivamente perché è più capace, più intelligente, più sveglia, più amata della sua figlia che poi probabilmente avrebbe ereditato il trono. È la stessa cosa che fa il personaggio di Oliver quando caccia suo fratello Orlando, soltanto perché è più amato di lui, soltanto perché la gente lo ritiene più intelligente, perché è sempre nel cuore delle cose, dice ad un certo punto. Non capisco per quale ragione la gente lo ami così tanto uno che è sempre nel cuore delle cose, che è più intelligente, che è sveglio, che non ha studiato. Quindi la necessità di mortificare quel talento, la necessità di sbarazzarsene per non andare ad inficiare sui propri meriti o sui propri non meriti, mi sembra che Shakespeare ci dia la possibilità di fare una grossa riflessione anche su quello che accade tragicamente e quotidianamente nella nostra realtà. Grazie. Grazie.